Buonasera amici, questa sera al Memo anche i Camaleonti, un gruppo che ha segnato la storia della nostra musica italiana, benvenuti. Grazie, buonasera a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie. Benvenuti, benvenuti. Allora, questa sera serate in onore di Ricky Maiocchi, fondatore del gruppo dei Camaleonti, insieme a voi. Cos'è successo? Anche lui. No, no, no. L'abbiamo fondato insieme comunque. Anche lui fondatore? Certo. Ah certo, ci mancherebbe, certo. Un vostro ricordo di lui. Ma era una bella persona, era un po' matto comunque perché lui purtroppo quando abbiamo preso i primi soldini, così andava a spendere tutti, comprava macchine, comprava cose, gli spendeva. È un peccato perché era veramente un grande personaggio comunque. Un tuo ricordo di Ricky? Eh, Ricky era un protagonista. Sì. So che, allora, quando abbiamo formato il gruppo, lui si atteggiava a capo gruppo. Eh, e allora, quando andava lui a trattare per il cachet, nei locali, la prima settimana in cui sono entrato anch'io a far parte dei Camaleonti, lui si è trattenuto 35.000 lire a me e praticamente mi ha detto, sai, la prima settimana sei in prova e poi non li ho più visti. Sparite, basta. A lui invece gli ha fregato una chitarra. Anche a te? Eh, beh, insomma, ma è una cosa che non lo so, sembra, sembra che sia così, comunque non vorrei dirlo, meglio di no. Bene, insomma, cosa suonerete stasera? Beh, suoneremo tre o quattro dei nostri più grandi successi, insomma, per ricordare un amico che non c'è più fra di noi, però è sempre presente, quindi canteremo le nostre canzoni. Come mai la scelta del nome Camaleonti? Allora, Camaleonti cambiano colore. Noi, a seconda dell'ambiente dove ci trovavamo, cambiavamo genere di musica e c'è rimasto il nome addosso ai Camaleonti, capito? Cioè, se c'erano persone anziane, facevamo musica un po' più soft, così. Se c'erano ragazzi, facevamo dei rock scatenati. E di lì il nome ai Camaleonti. Quindi siete stati anche versati, non siete mai, tra l'altro, stati etichettati in un genere ben preciso. Sempre uguali, ma sempre diversi. Sempre uguali, ma sempre diversi. Comunque abbiamo sempre cantato l'amore. Questa è la cosa più importante. Perché senza l'amore come si fa a vivere senza l'amore? Dimmelo. Come si fa a vivere senza l'amore? Impossibile. Il segreto di questo successo che dura da tantissimi anni? Soprattutto l'amicizia. Il fatto che io e lui siamo insieme rimasti, diciamo, gli unici antichi tra i fondatori. È l'amicizia che ci lega da 50 anni. Quindi 50 anni è più di un matrimonio. È importante. È importante perché abbiamo capito che è parte della nostra vita. Fare musica ci piace, ci è sempre piaciuto, ci piacerà sempre. Quindi fare musica ci sta bene. Passare bene. Bene, prossimi progetti? Siete impegnati in qualcosa? Stiamo tentando di scrivere, ci stiamo riuscendo forse un libro con tutta la nostra storia. che uscirà verso ottobre, novembre, dove raccontiamo aneddoti particolari, tutta roba sulla musica e di quello che succedeva a Milano in quel periodo, quando siamo nati noi. Ecco, parliamo un po' di quegli anni, quanto sono cambiati gli anni da quando avete iniziato ad ora? Da quando avevo iniziato... Com'è la musica oggi? È cambiata un po'. Sono cambiati anche gli autori. Gli autori che per esempio scrivevano per noi sono tutti morti, quindi cosa vogliamo dire di più? Cioè i vari Bigazzi, Savio, Pace, Panzeri, Cavallaro, Beretta, insomma tutti grandi parolieri, grandi autori che purtroppo non ci sono più e hanno lasciato un segno importante nella storia della musica leggera italiana, per cui hanno scritto tante canzoni, non solo per noi ma anche per altri artisti e per cui rimarranno sempre nella storia. Oggi purtroppo questi autori non ci sono più e non ci sono più quelle belle canzoni, quelle belle melodie. Ci fa fatica a trovare delle belle canzoni oggi, veramente. Concordo. Voi avete dei plezzi splendidi, l'applausi, l'ora dell'amore, eternità. Quale? C'è qualcuno che siete più attaccati, più affezionati? No, il fatto è soltanto che praticamente ogni canzone ci ha portato al successo, quindi ha contribuito a diventare sempre più grandi, è il nome del gruppo, per cui ogni canzone ha una sua storia e siamo legati a tutte quante le nostre cose. Bene, mi faccio i complimenti. Cosa consigliereste a dei giovani che oggi vogliono cominciare a fare musica? Se hanno un sogno di coltivarlo, di continuare a sognare, perché se uno è bravo viene fuori comunque, prima o poi viene fuori. Grazie, grazie per essere stati con noi, è stato un piacere. Alla prossima, vi ascolteremo questa sera, speriamo di vervi presto e diciamo a tutti gli amici di seguirvi nei vostri nuovi progetti perché siete ancora presenti. Grazie, grazie a voi Camaleonti, grazie amici, ciao. Grazie a te, ciao. Grazie a te, ciao.